Buongiorno a tutti, benvenuti al Museo del Novecento di Milano, allestito all'interno del Palazzo dell'Arrengario, il grande edificio a due propilei che fa da contraltare a Galleria Vittorio Emanuele in Piazza Duomo. In questo momento di emergenza sanitaria i musei sono chiusi al pubblico, tuttavia il patrimonio culturale in esso conservato non è abbandonato a se stesso, ma un gruppo di operatori museali, certamente ridotti in numero e facendo attenzione alle prescrizioni sanitarie imposte, continua a vegliare su di esso. Come abbiamo fatto per gli altri musei del Polo Arte Moderna e Contemporanea, anche per il Museo del Novecento abbiamo pensato di portare alcune opere scelte dai vari operatori museali per gusto personale all'interno delle vostre case in attesa che possiate venire a trovarci direttamente a emergenza finita. Io sono Martino, sono uno dei coordinatori del Corpo Custodi del Polo Arte Moderna e Contemporanea e come opera ho scelto il soffitto al neon di Lucio Fontana alle mie spalle. L'opera è stata realizzata nel 1951 per il soffitto dello scalone della Nona Triennale di Milano. Si tratta di una delle più impegnative installazioni ambientali realizzate dall'artista con il neon, un arabesco di luce fluorescente composto di decine di segmenti tubolari piegato a mano che si snodava per cento metri sospeso con cavi d'acciaio a una controsoffittatura appositamente allestita da Luciano Baldessari e Marcello Grisotti. La profondità e la tridimensionalità della composizione che in triennale si potevano cogliere dal pianerottolo dello scalone sono qui visibili dalla sala più alta del museo dedicata appunto a Lucio Fontana. Il segno intricato della luce sembra sconvolgere la rigida geometria della griglia spazio-tempo in un nuovo concetto spaziale tanto caro all'artista che a Milano sperimenta e costruisce il proprio linguaggio artistico. E proprio il rapporto tra quest'opera e la città di Milano è il motivo per cui l'ho scelta, una delle realizzazioni museologiche e museografiche a mio avviso meglio riuscite di tutta la città. Questa sala infatti con le sue amplissime vetrate che danno su Piazza Duomo rende visibile quest'opera anche dall'esterno in un continuo rimando interno-esterno con chi passa e passeggia nella nostra piazza. In particolar modo alla sera quando le luci diventano più soffuse il segno del neon è ancora meglio percepibile dal basso della piazza in un continuo rimando ed è effettivamente il museo nella città.